il prossimo ospite della prossima puntata di stories è vinicio marchioni ciao vinicio benvenuto allora presto ti vedremo un po ovunque cinema teatro serie tv ma in verità ti porto un attimo a casa tua dove hai un calcio balillo un biliardino e di una partita particolare che hai fatto a biliardino abbiamo fatte tantissime però una con mio figlio marcello il più piccolo e valerio mastandrea e per francesco favino così chi ha vinto un po in paridenza così